Oh, ciao e bentornati per un nuovo video! Allora, come state? Passato bene la Pasqua? La Pasquetta? Io devo dire di sì, anche perché nell'uovo di Pasqua ho trovato questo pacco che mi dice di non accontentarmi, o almeno così credo, ma sì, dai, questo è un pacco che arriva da OnePlus perché oggi, pomeriggio, è stata presentata la nuova serie OnePlus 8 e 8 Pro e quindi qui ne abbiamo uno dei due ed è ora di andarlo a scoprire insieme. Ma intanto bella la confezione, non più rossa come quella degli anni precedenti, ma nera e quindi andiamo a vedere cosa cela questa bella confezione. Devo dire che OnePlus ci tiene sempre molto a queste confezioni per la stampa, per i media, per gli youtuber e crea sempre dei cofanetti interessanti da aprire. Allora, eccolo qua, rosso OnePlus e scopriamo che è l'8, quindi la versione, per così dire, liscia, quella premium, non ultra premium come il Pro, che però potrebbe avere un suo senso perché è anche quella più economica delle due. Qui vedo che mi hanno messo il classico libretto con tutte le caratteristiche, mi piacciono un sacco questi libretti, si chiamano Reviewers Guide, anche se in realtà sono più delle informazioni sommarie. Comunque molto utili perché ci sono le specifiche e anche una spiegazione di come va aperta la scatola, che è sempre molto utile perché l'anno scorso rischiavo di buttare via le cover che erano ben nascoste. Mettiamo via il libretto e qui vedo subito una cover di un colore inconsueto, un shano, molto carina, che va un po' a sostituire quella rossa, credo, e qui vedo il bumper, quello un po' più aggressivo che c'era già nelle scorse versioni. Mettiamo da parte anche queste due cover e via con la scatola dell'8, direi molto generosa come dimensioni. Quindi in teoria io controllo bene, ma non dovrebbe esserci nient'altro. Allora questa è la versione 12 GB, 2.56 di memoria, parte però da 8 GB in commercio. Questa è la particolarità di avere una colorazione che mi hanno assicurato essere davvero particolare. Si chiama Interstellar Glow. E dai, spellicoliamo intanto la confezione. Ole, eccolo qui, eccolo qui, bello nella sua pellecolina, lo mettiamo da parte e andiamo a scoprire cosa c'è in confezione. Dunque manualetti di informazione, un cartoncino, una lettera di invito, c'è il pin, molto bene. C'è un'ulteriore cover che poi è quella che troverete in confezione andandola ad acquistare. Devo dire, carina, trasparente, ma con la scritta Never Settle anche sulla cover. Ci sta, ci sta per non renderla anonima come le solite coverine trasparenti che troviamo in confezione. Quindi brava OnePlus. Solito cavetto rosso e caricatore Warp Charge 30T, che come sempre garantisce una ricarica super super veloce. Un attimo solo che però mi spalmo un po' di oro liquido, visto il periodo non si sa mai, quindi prima, dopo e durante, sempre meglio prendere le giuste precauzioni. E procediamo con lo spellicolamento, vedo già che il colore è molto molto particolare. Ah, io preferisco le pellicole, quelle che si appiccicano, ma vabbè, sono io un po' strano. Tiriamo via il tutto e adesso ve lo faccio vedere perché è davvero, davvero spettacolare. Guardate che bella sta colorazione, veramente, veramente bella. Specchiata, non so quanto possa resistere le impronte, quello lo scoprirò per adesso. Sembra, sembra che resista molto bene, guardate qua. Poi fa, vediamo se si vede, cerco di fare in modo che si vedano le venature di rosa o forse da sopra le vedete meglio. Guardate che meraviglia di colorazione, davvero, davvero bella. Back cover che cela le tre fotocamere, una 16 megapixel ultra wide, una 48 megapixel wide, che è quella principale. E poi c'è una macro camera che è davvero inconsueta, ma che poi, magari, proveremo. Come dimensioni ci siamo. Form factor che mi ricorda molto i cugini Oppo, che tra il resto, insomma, fanno parte più o meno della stessa famiglia. E quindi come design, almeno per quello che riguarda la cornice, siamo molto su quella linea lì. Anche se ormai è difficile inventarsi qualcosa di nuovo. Mentre lo accendo per la prima configurazione, vi parlo un po' della dotazione hardware, che prevede a bordo uno Snapdragon 865, 12 GB di RAM, come vi dicevo in questa versione, che poi può variare, ma si parte comunque sempre da 8, 256 GB di memoria non espendibile e modulo 5G già integrato, oltre al Wi-Fi 6. Ok, allora, mentre lui si carica, perché non provare a metterlo a confronto con il suo predecessore, cioè OnePlus 7T, che io ho ancora qua, perché poi alla fine la questione è sempre la stessa, no? Cosa faccio? Risparmio? Cerco il modello precedente, magari a un prezzo più basso? Oppure compro un nuovo modello? Cosa mi conviene fare? Beh, devo dire che la risposta principale è sempre la stessa. Dipende sempre molto a che prezzo trovi il precedente modello, questo è chiaro. Certo, OnePlus ha due pregi, un pregio e un difetto, anzi direi. Mantiene sempre molto bene il suo valore, ciò vuol dire che il prezzo non scende mai tantissimo, nemmeno conosce il nuovo modello. Questo perché comunque i vecchi modelli rimangono sempre molto, molto performanti e mettendoli di fianco vediamo come è cambiato molto, soprattutto nella parte posteriore, dove viene abbandonato questo bloc circolare che non mi aveva mai convinto più di tanto e si torna al vecchio design, quello del 7, tanto per intenderci. Cambia molto però sul frontale, dove il vecchio modello aveva uno schermo piatto e il notch a goccia, mentre questo nuovo modello ha i bordi curvi, proprio da tipico top di gamma, e ha il foro qui in alto a sinistra, che adesso si vede poco con questo sfondo. Sfondo però intanto mi sono accorto che ha caricato e allora possiamo parlare anche del display che è un 6,55 pollici AMOLED con una frequenza di aggiornamento a ben 90 Hz, che direi è tanta tanta roba su un dispositivo del genere. Naturalmente ora è prematuro per fare un certo tipo di valutazione, però non dubito sul fatto che anche questo sia la solita scheggia come ormai OnePlus ci ha abituato, anche perché comunque si basa sempre sulla Oxygen, che poi a sua volta è basata su Android 10. Modello questo Lotto che purtroppo ha dispetto del fratello maggiore, ma è anche comprensibile anche per dare un po' di distinzione di prezzo, non ha la ricarica wireless e non ha la certificazione IP, cosa che invece, guarda caso, è arrivata sul modello Pro ed era ora, perché insomma se vuoi essere un top di gamma a tutti gli effetti, deve avere tutte quelle piccolezze o comunque quelle caratteristiche che chi spende una certa cifra vuole trovare sul proprio dispositivo. Certo qui parliamo di cifre inferiori, ancora mentre sto registrando non c'è l'ufficialità, però credo che si parta da 6,79 per la versione 828, comunque in questo momento ci saranno già i prezzi fuori, più o meno siamo lì, canali di vendita come sempre saranno i soliti, quindi ci sarà anche Amazon, non appena disponibile naturalmente vi metterò anche il link qui sotto in descrizione. Ero curioso però di provare la fotocamera macro perché è una cosa diversa, adesso prendo questa monetina da 2 centesimi, provo a schiacciare qui, sì infatti, quello che normalmente è una versione zoom, qui diventa una versione macro. Tac, fotografiamo la polvere che c'è sul mio iPhone, beh non è male, comunque è originale a mio parere la lente macro piuttosto che quella zoom, immagino che non si utilizzerà tantissimo, però del resto io sto provando lo zoom anche sull'S20 Ultra fino a 100x, beh ragazzi non è che serve proprio a niente se non magari a cercare di spiare la vicina del balcone di fronte e non si fa nemmeno in quarantena, mi raccomando. A questo punto direi dai proviamola questa coverina verde che tanto mi incuriosisce. Molto bella, rigida, qui è ruvidina, molto molto carina, quindi ad alto grado di protezione, beh è bella, bella, mi piace, direi originale, originale anche gradevole al tatto. Del resto OnePlus ha sempre fatto ottime cover, questa è una bella novità, è una bella novità perché protegge molto, però è anche direi estiva, non vedo l'ora di poterla portare all'aperto, ma sono sicuro che non vedete l'ora anche voi. Quindi che dire ragazzi, io ringrazio OnePlus per avermelo mandato in anteprima, per essere riuscito a portarvi questo unboxing, purtroppo non ho l'8 Pro ma poco importa, lo vedrete magari prossimamente su questo canale o su altri canali. E siccome non ve l'ho detto a inizio video, mi raccomando, sappiate che se volete dare un supporto a questo canale, la maniera più semplice è lasciare un bel like qui sotto, attivare la campanellina, oppure addirittura iscrivervi qualora non l'abbiate ancora fatto. Grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Grazie a tutti.